Una settimana fa è stato siglato un accordo tra la Russia e la Cina, è un accordo importante perché prevede che la Russia fornirà la Cina di 38 miliardi di metri cubi di gas all'anno per vent'anni. Questo ci spinge a riflettere su qual è la mappa della distribuzione del gas in Asia perché questo influenza molto quello che succede in Europa. Guardando un po' i dati si vede che sostanzialmente la Cina è rifornita sia dalla Russia che dal Turkmenistan, paese molto importante. Il Turkmenistan dovrebbe fornire di gas anche l'India e l'India dovrebbe essere rifornita di gas anche dall'Iran. Questo perché è importante? Perché quello che succede in Asia influenza profondamente quello che succede in Europa. Infatti l'Europa dipende per le sue forniture per il 35% dal gas russo. Consideriamo che l'Europa paga qualcosa come 50 miliardi di dollari all'anno alla Russia per le sue forniture di gas. Allora noi dobbiamo un attimo riflettere su quello che succede. Che succede? Succede che per esempio l'Italia per il tramite di Scaroni ha allungato il contratto di fornitura di gas dalla Russia dal 2017 fino al 2036. Ma le quantità di gas di cui ha bisogno l'Italia sono diminuite. Probabilmente questo allungamento porterà nuovi debiti. Ma l'Europa poteva fare qualcosa per non essere così schiacciata dalla forza del gas russo e quindi dallo strapotere di Putin? Sì, poteva fare qualcosa. Poteva realizzare un gasdotto che si chiama Nabucco che avrebbe dovuto trasportare in Europa il gas Turkmeno, il gas A0 e il gas iraniano. Perché è fallita questa cosa? È fallita perché la Russia ha esercitato una grande forza per indirizzare il gas Turkmeno verso la Cina. L'Europa non ha avuto la forza di contrastare questo e adesso siamo strettamente dipendenti dalla Russia. Barroso ha iniziato a dire, sapete chi è Barroso, no? Barroso ha iniziato a dire che dobbiamo potenziare il corridoio sud. Ma dove era Barroso quando doveva dire che dovevamo fare il Nabucco, dovevamo diversificare le fonti? E perché parliamo di diversificazione delle fonti quando non abbiamo fatto niente? Noi abbiamo parlato qualche tempo fa del TAP, il tubo che dovrebbe portare in Italia e quindi in Europa il gas A0 ma la quantità di gas che verrà asportato dal TAP è minima e non influenza minimamente il potere politico della Russia sull'Europa. Quel TAP non è altro che una foglia di fico. Allora siccome la politica europea sul gas è fallita, è miseramente fallita, dobbiamo capire che fare. Possiamo ripensare al progetto Nabucco? Penso di no, ci vuole troppo tempo tra la programmazione di un gas A0 e la sua effettiva realizzazione. Dobbiamo andare in un'altra strada che è la strada dell'efficienza energetica e la strada delle energie rinnovabili. Questo è quello che dobbiamo fare perché se no non ci libereremo mai. Che cosa possiamo pensare di fare? In Europa la parte fredda, la parte nord, potremmo lavorare molto sull'efficientamento energetico degli edifici. Tutta la parte meridionale dell'Europa può lavorare molto sulle energie rinnovabili. Questo è fondamentale perché la politica energetica a livello europeo deve essere studiata bene. Abbiamo fatto anche una proposta, pochi giorni fa abbiamo presentato una mozione che riguarda come sfruttare al massimo le energie rinnovabili in Italia. Ma di questo vi parleremo la prossima volta. Ciao!